Le abilità comunicative a scuola vengono spesso richiamate e sollecitate senza purtroppo avere dei risultati soddisfacenti. La percezione empirica delle insegnanti e l'esito delle ricerche purtroppo collimano. Le abilità comunicative sono in sofferenza per molteplici fattori. Queste abilità va detto che non sono innate ma vanno chiaramente identificate ed insegnate perché sono frutto di apprendimento. Una struttura estremamente semplice ma altrettanto potente ed efficace è la carta T, la T-Shart che può essere usata sia per il parlato consapevole sia per l'ascolto attivo. Quando noi definiamo attivo l'ascolto lo contrapponiamo all'ascolto passivo o selettivo ed il parlato consapevole è un parlato progettato, pensato, organizzato per le funzioni comunicative che vogliamo soddisfare. Questa carta è, come vi dicevo, estremamente semplice. Si tratta di fornire ai bambini, se sono molto piccoli, oppure di chiedere loro di disegnare una grande T, una lettera T su un foglio e su uno dei due bracci scriveremo che cosa vedo e sull'altro che cosa sento quando si agisce in modo consapevole questa abilità. Guideremo poi i bambini a identificare comportamenti direttamente osservabili da scrivere nello spazio sotto i relativi bracci. I bambini lavoreranno individualmente, in coppia, in piccolo gruppo e poi in grande gruppo riprenderemo insieme tutte le idee emerse per arrivare ad una carta T collettiva che definirà quindi tutti i comportamenti chiaramente osservabili che vengono messi in atto da chi agisce in modo consapevole, pieno e corretto l'abilità che stiamo analizzando, sia essa l'ascolto attivo che il parlato consapevole. Potremo procedere subito ad una prima autovalutazione perché i descrittori dell'abilità che noi troviamo sotto i due bracci sono descrittori che noi possiamo utilizzare per l'autovalutazione e la covalutazione naturalmente in ottica formativa per cercare cioè di ricavare elementi per migliorare la nostra prestazione. Bene, queste ed altre strutture vi saranno forniti all'interno del webinar e all'interno dell'intero corso sperando che possano davvero esservi utile per il lavoro in classe.